Si sono svegliati un po' tardi questi ministri perché noi dall'inizio contestiamo un'autonomia differenziata che vuole spaccare un paese che invece ha bisogno di essere ricucito nelle sue fratture e nelle sue diseguaglianze. Siamo in un territorio meraviglioso, un territorio che è di area interna, un territorio di una regione che sarebbe ulteriormente colpita da questa autonomia differenziata. Mi sembra che gli esponenti della maggioranza, parlo di ministri, parlamentari ma anche di presidenti di regione, si siano svegliati un po' tardi perché noi dall'inizio diciamo che per questa via si spacca il paese, si aumentano le diseguaglianze territoriali. Spieghiamo cosa vuol dire autonomia differenziata, vuol dire stabilire per legge che ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B a seconda della regione e del luogo in cui nascono e crescono. Noi invece abbiamo una bella Costituzione che parla di eguaglianza, che deve valere anche nell'accesso al diritto alla salute, che invece non è così, lo sapete, com'è la situazione della sanità in Calabria, così come il diritto ai trasporti pubblici locali, su cui il governo nazionale non ha investito un euro, non ha mandato un euro ai comuni, così come lo è la scuola pubblica, che è la prima grande leva di emancipazione sociale delle persone. Se vogliamo dare un futuro migliore ai giovani è da lì che si parte a ridurre le diseguaglianze, perché noi non accettiamo l'idea di un'Italia in cui è la famiglia, il luogo in cui nasci a definire il tuo destino. È proprio una violazione dell'articolo 3 della nostra bella Costituzione. Allora noi siamo felici del risultato a cui il Partito Democratico ha dato un contributo importante nella raccolta delle firme e ci adopereremo in questi mesi per portare il Paese al voto e per fermare questa legge ingiusta. Quindi se ci sarà un ravvedimento lo verificheremo anche su chi sosterrà il referendum.